Anche perché a proposito di mascherine, mentre Palù ci dice mi raccomando, mi raccomando, c'è un signore che è diventato il nuovo commissario per la sanità in Calabria, che ha detto che la mascherina non serve a un piffero e che bisogna, caro il mio Dio Lugia Russo, limonare per una quindicina di minuti. Questo lo aveva detto quando qualcun altro andava in Senato, a proposito di quello che diceva Palù, e si vantava di non avere la mascherina. C'è un signore di Salvini, Giugatini. Il sindaco di Sutri, oltre a essere deputato, continua a dire che non bisogna usare la mascherina, fare le cene con gli amici senza mascherina. Però la verità è che Sgarbi nessuno l'ha fatto commissario, che già è qualcosa, diciamo. No, no, diciamo che però quel video è molto antico. Allora, Morelli, sei subito arrabbiato, è bastato un po'. La verità va male a Morelli. È la scienza cognitiva, la scienza cognitiva. Non mi posso arrabbiare, talmente imbarazzante che non mi posso regognare. La verità ti imbarazza, Morelli, lo capisco che la verità imbarazza. Un attimo Napoli, arrivo Morelli, un attimo Napoli.